Allora Arnel, ricapitoliamo, il caso Scafroglia va in onda, lunedì 10 minuti, martedì mezz'ora, mercoledì 10 minuti, venerdì mezz'ora, domenica il meglio di 40 minuti, ripeti con me. Sì, allora il signor io viene, sabato fa due ore, io ho due ore, mio cugino il signor, se è possibile. No, lunedì 10 minuti, martedì? No, giovedì, scusa signor, sì, giovedì non viene meglio perché io vado a fare comunione con fratella. Giovedì non c'è, solo lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e domenica. Signore, scusa signore, se mia fratella fa comunione giovedì non viene, no, viene sabato il signor, dirci, signor, sì, sì. Grazie a tutti.